Come gestire la voglia di cibo? Sicuramente dopo le feste parlare di alimentazione è qualcosa di complicato, abbiamo sicuramente tutti mangiato un pochino di più, trasgredito, ci siamo concessi qualcosa di più, però adesso è importante cominciare a ragionare su ritrovare quell'equilibrio dal punto di vista alimentare che magari in questo periodo abbiamo un pochino perso di vista. Come farlo e da dove partire? Come sempre io sottolineo l'importanza del ruolo della consapevolezza, quindi di conoscersi, di capire il nostro stato emotivo, di capire come le emozioni influiscono. Se sentiamo un impulso eccessivo nei confronti del cibo e quindi siamo spinti in maniera quasi inconsapevole a mangiare grandi quantità, ovviamente in questo caso forse stiamo parlando di una fame nervosa, di una fame che va a placare e a mettersi da un punto di vista emotivo come una sorta di cerotto, quindi qualcosa che tappa e che va a non farci sentire un particolare stato emotivo. E quindi è importante avere consapevolezza, capire come stiamo, capire quali sono le emozioni che stiamo vivendo e quindi di conseguenza riportare l'alimentazione a un altro livello, un livello di maggiore piacere. Molto utile se abbiamo dei momenti in cui sentiamo questa sorta di perdita di controllo eccessiva è l'utilizzo di un diario alimentare, quindi scrivere e segnare all'interno di questo quaderno, di questo diario, quello che noi stiamo mangiando. Ci aiuta ad avere maggiore consapevolezza degli alimenti, di quello che ci accade, di quello che ci accade non solo fuori ma anche e soprattutto durante i pasti. Poi come sempre punto una maggiore attenzione sull'importanza del piacere e quindi di cercare di concentrarsi anche subito dopo il periodo delle feste sul piacere, sul piacere di mangiare. Se volete saperne di più potete acquistare anche il mio ebook che tratta queste tematiche dedicate proprio al tema dell'alimentazione. Grazie